ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo gameplay dell'opo the ring gollum oggi proseguiamo allora l'ultima volta ci siamo lasciati qui praticamente per la questione di arambicarci che non so devo capire come si sale ok l'ho capito alla fine così è impatto ok quasi arambicherà ovviamente va bene ok collezionabile dove si trova? ok ci dovrebbe essere una leva quindi ancora siamo lontani ok ok là sopra come cavolo ci va ma ce la fa a arambicarsi lì o no? ma se salto direttamente qua sopra ce la fa? dovrebbe arambicarsi di lato però non ci va a questo punto veramente era meglio che l'ho fatto come ora ah cavolo e lì ho fatto un fail tremendo dai ma io veramente ma in questa parte banale mi devo bloccare ma stiamo scherzando che cazzo fa? che cazzo fa? vabbè veramente oggi oh ma dice seriamente o ci fa sto cazzo di personaggio rincoglionito e non mi salta io gioco per rilassarmi e devo sclerare porca buttana oh allora ok ora di qua qua deve arambicarsi al muro quindi saltare indietro ok 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 e ok 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 siamo arrivati qua Adesso Adesso La cosa mi dice Devo saltare là Qua non si arrampica Allora qua non vedo nulla Quindi devo scendere Ma devo riscendere Non ho capito Sì a quanto pare sì Perché vedo giù Quindi devo scendere Mi ha fatto salire Per riscendere Ma seriamente Vedo là sotto però E forse De là ci va Non capisco Se là c'è un passaggio O poi devo andare da lì E salire Cioè io vedo là Il passaggio Che dovrebbe essere là Quindi boh Qua si fa arrampicare In qualche modo Qui c'è qualcosa Non lo so L'azione è abbastanza strana E trovo tipo In un vicolo cieco Qua sbagliato Lì qua dietro Non c'è nulla Quindi no Aspetta Devo buttarmi così No Non così Cavolo Altrimenti Sì Aspetta Sali E di qua Mi butto Ok Ok ora Ma 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 che ca Ma perché Cazzo è crepato No Ma Ma è assurdo È assurdo È assurdo Cioè è molto Senza senso Cioè è morto Senza motivo Ma dice seriamente Sto gioco Forse ho capito Devo saltare Allora Non è tanto Facile Però Ok Ma penso Perché già Stiamo più in alto Qua Perfetto Ok Qui c'è qualcosa No Inutile È un labirinto Allora di qua Adesso è andato Di qua Ok Qua devo lasciarmi cadere Per forza Perché come faccio Ok Eh si fa sempre Più ardua La strada Per andare di là Allora io qua Secondo me Devo andare indietro Proprio indietro Perché Ma Vaffanculo Chiama veramente Più complicato Possono metterlo Il passaggio Ma Che buttana Però dai Dico Veramente Ma poi Non c'è No vabbè Ma che cazzo fa Cioè Si è lanciato Si è lanciato Invece Ma poi Non c'è Neanche un cazzo Di checkpoint Seriamente Ma ora Si è salvato Poco fa No però Perché Non c'è Allora Allora Quello che ho fatto poco fa è giusto Solo che si è buttato Di sotto prima Ok ora si è salvato Cioè se non atterravo qua sopra Cioè perché ora si è salvato Io crefavo praticamente Perché capace mi spanava cadendo E morendo Ora dove devo andare Di là sopra Devo capirci qualcosa Che là c'è pure un passaggio Però il problema è che non so Ma io non ci arrivo là sopra secondo me Aspe forse qua Ah cadeva Non me l'aspettavo Ok Allora qua immagino che deve arrampicarsi Vediamo qua indietro Se va indietro Ok Meglio avvicinarsi più al bordo Ok 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 Grazie. Ok. Ok, forse ho capito, se passo quando sta facendo la luce, io ci muoio. Mi devo aspettare il momento giusto per passare. Ok. 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 qui che devo fare devo saltare mi sa no ma non me la sento adesso no ma vaffanculo io penso che c'era un cazzo di muro porca buttagna ma dai ma se ne hai minte perché cazzo non l'ha preso stavolta ma se ne cerca sto cazzo di gioco che cazzo devo fare qua ma io non capisco che cazzo devo fare che cazzo devo fare non mi fa capire una beata minchia di quello che devo fare qua a parte andare indietro ma non si arrampica ma siamo seri siamo seri ma 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 E non lo prende, non lo prende sto testa di manca, ma stiamo scherzando, minca di rincoglionito. E non lo prende, non lo prende, non lo prende. Perché? Perché? Perché porca buttana, perché non lo prende? Perché non lo prende questa di cazzo di un personaggio? Minca, ma stiamo scherzando, ma veramente? L'incoglionito di un personaggio! Io qua vorrei capire, io! Non lo... Come cazzo ci sono arrivato po' là sotto vivo io? Come cazzo! Come cazzo! Come cazzo! Non so che inventarmi! Non so che cazzo inventarmi! Non so che cazzo inventarmi, veramente! Non so che cazzo inventarmi! Noto una cosa però, là sotto se ci arriva... Non so che cazzo inventarmi! Non so che cazzo inventarmi! Io penso che sono giusto ora! Penso! Ora... 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 Non so che cazzo vestiti... Non so che... Ma... Ora... L'arrationale! Non so che cazzo da l'istituto non so che... Io non so se il raggio Arriva lì pure per ammazzarmi Vabbè È morto così a caso Grazie 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 Questa secondo me è un riparo, quindi aspetto a qua Grazie 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 ok ok Vediamo un po' Dove possiamo andare Qua si scende Ok Lì si arrampica E non capisco qua dove debba andare Ma qua sotto c'è qualcosa però Se mi butto muoio Il balzo lo potrei fare Boh io a parte fare un salto Da quel lato Non penso di poter fare altro No Ah Ok nuotavo qua Per uscire Non si arrampica no? C'è qualcosa sotto acqua vediamo Che c'è qua sotto? Nulla Torniamo in superficie Allora qua secondo me devo correre qua Fatemi controllare la guida Perché non vorrei che poi c'è la leva Già qui No ma c'è una leva tipo centrale Ma non è questa Mi sa che salirà l'acqua Esattamente Che c'è la leva Che c'è la leva Now they stickin' cross Cross? Where? Go go Yes Oh All right I'm so confused What are you doing here? Why are you helping me? We wouldn't leave a friend behind, would we precious? I I don't know what you said But we're not sitting here are you What's our plan now? There's a bridge On the other side To the west With currents and crates to hide in Come on Then you have to keep going All right Principe Put both إلى There's a bunch of Let's keep going up At Tie I I The I I I I non capisco perché non si può arrampicare la un pollo come i just did sure this is such a good idea watch your step then don't want nice desert man to get around don't want nice desert man to get around Allora secondo me devo fare qualcosa qua quindi devo riavviare io la leva E' un puzzle bro devo capire come fare qua Lui non può fare nulla Aspetta Eh secondo me forse si devo lui vale sopra Allora appena va sopra Oh ci devo andare io Boh vediamo un po' Eh no non ci arriva Quindi no devo andarci io lì Allora lo rimando qua Ma io penso che si possa rampegare lui poi Vediamo un po' No ma non può fare nulla Mi sembra difficile si possa rampegare in questo punto lì però boh Il problema è che qua non c'è niente Prima vabbè manco si arrampica la storia Lo proviamo dai Lo proviamo qua Eh me lo immaginavo che non si arrampicasse Eh non ho idea non ho idea di cosa fare qua Là sopra non ci arrivo Eh non ho idea di cosa fare qua non ci sono scale no però di là aspetta di là di là di là ci potrebbe essere qualcosa allora allora vediamo se qua cambia qualcosa non mi sembra però c'è una scala no ma non è accessibile boh non so che inventarmi qua non si può arrampicare là c'è la scala ma il problema è che non ci arriva lui altrimenti ma sembra che ci siano dei passaggi sotto però allora io la faccio disattivare di nuovo perché devo capire qua io non so che Allora. Allora. Go! Yes! Allora! Vedi il passaggio non c'è... Però quello è un punto di arrampicata o sbaglio? Eh, eh, eh. A me mi sembra di sì. A me sembra un punto dove si può arrampicare, là. No, non si arrampica. A me sembra un punto di arrampicata o sbagliata o sbagliata o sbagliata o sbagliata o sbagliata o sbagliata o sbagliata. A me sembra un punto di arrampicata o sbagliata o sbagliata o sbagliata o sbagliata o sbagliata. Però è interna una scala. Non ci sono aperture da qualche parte qui. No. Anche questa non ha nessuna apertura. che qua ci sono due scale. Il problema è che se non c'è un modo per accederci è un problema. Sembra se non c'è un passaggio segreto da qualche parte... Per l'ascizio è un'e sbagliata o sbagliata o sbagliata. boh mi fermo qui per oggi non ho letteralmente idea di come fare qua c'è detto qua nella guida in qualche modo c'è parlando di collezionabili è arrivato praticamente quella cosa là sopra che io non so come arrivarci grazie no vabbè era qua ma veramente anche collezionabile è praticamente farlo morire allora se dovrebbe essere un trofeo probabilmente un trofeo sarà per momento nessun trofeo grazie get over there Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Dessert man. Yes. Dessert man. 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 Dessert man.